Ciao tifosi del Milan, oggi vi porto una notizia calda che sta movimentando il mercato. Secondo TuttoSport, il nome di Victor Ozyman, attuale attaccante del Napoli, è stato accostato al Milan negli ultimi giorni. Tutto questo a causa dell'incertezza sulla rinnovo di Dusan Vlaovic. Se il serbo dovesse lasciare la Juventus la prossima estate, Ozyman potrebbe essere il giocatore che il Milan sta osservando per rinforzare l'attacco. Ma non si tratta solo di interesse, c'è già un club che ha manifestato il desiderio di prendere il nigeriano. Il Galatasaray, tuttavia, il problema è che la squadra turca non ha i fondi necessari per soddisfare le richieste del Napoli, che, secondo le informazioni, chiederebbe tra i 90 e i 100 milioni di euro. Se il Napoli manterrà questo prezzo, probabilmente la trattativa non andrà in porto né per il Milan né per il Galatasaray. Ma se le cifre dovessero cambiare, la trattativa potrebbe farsi interessante. Si prevede che la situazione si evolverà nei prossimi mesi, con possibili novità sul mercato dei trasferimenti. Osiman al Milan sarebbe un sogno? Lasciamo il dubbio aperto. Ora voglio sapere da voi, tifosi rossoneri. Pensate che Victor Osiman potrebbe essere il pezzo mancante nell'attacco del Milan? Cosa ne pensate di questo possibile acquisto? Lasciate la vostra opinione nei commenti e non dimenticate di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati su tutto ciò che riguarda il mondo Milan.